Buongiorno, avete un po' di facce conosciute? Allora Aurora, su, segnalazione di un'amica che non diciamo chi è, è Franca. È Franca, ma... Ciao Franca! Ciao Franca! Andiamo a Bardolino, andiamo su una via vista lago che c'è sopra Bardolino andiamo da Costa d'Oro, andiamo a provare questo demi-check che fanno dagli anni 80, dicevano, con uve autoctore di zona, quindi Corvina, Rondinella e Molinara. Siamo un'azienda di Bardolino, conduzione familiare, ha aperto mio nonno nel 1973 con mio padre. Hanno fatto i primi esperimenti con il Chiaretto e dal 1974 hanno anche provato alla sperimentazione degli spumanti con il metodo classico e lo Charmant. Un rosato spumante demi-sec, quindi con alto dosaggio zuccherino, prettamente portato per l'abbinamento con i dolci. Quindi abbiamo un contenuto zuccherino che ben si bilancia con l'acidità e la sapidità di questo vino e ci permette anche degli abbinamenti un po' più estremi, però anche con dei piatti salati, quindi da non escludere anche, ripeto, un po' estremo, se vogliamo un po' insolito azzardato, che in realtà è quello che succedeva una volta. I vini dolci veronesi nascevano per essere consumati con i piatti salati. Ciao! 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 Ciao!